Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa piccola avventura perché sarà molto piccola ma molto veloce e molto veloce, dovrebbe durare 5 minuti da quello che ho letto e un free to play che ho trovato su steam mi attirava un po' e allora ho deciso di portarlo sul canale un horror, dovrebbe essere un horror vediamo, vediamo che cos'è, non so quanto possa essere horror 5 minuti, cioè probabilmente morirò malissimo che movimenti strani, la grafica è realistica praticamente, è molto realistica ce la faccio parlare, ce la faccio, ce la faccio c'è temporale, che devo fare, scusate, qua è tutto chiuso ah ok, c'è sto temporale mo ah ok, con questo zoom, ok sigarette, lattine, bottiglie, ok 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 qua è chiuso e lo vediamo, ma non si può tipo interagire no no ok non c'è più temporale no 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 no, paura cos'è, ho paura 5 minuti di infarti praticamente sono, fatemi capire ma è la sirena tipo della polizia quella che c'è lì fuori quindi c'è la polizia fuori ok perché non apro? perché non posso aprire? posso tornare in camera? oddio ok ok ma sono il killer io non ho capito, non ho capito aiuto, aiutatemi, vi prego aiuto aiuto oddio di nuovo ok ok cosa stracaccio è successo? ciao piccolina ciao piccolina c'è la mia cagnolina che mi fa compagnia ok era così anche prima luminosa, sì? sì sì sì, c'era tutto il sangue mi ricordo ci sto capendo niente oh non si, non si muove è una motosega è una motosega cos'era? cos'era sta roba? no no, seriamente cos'era? vabbè e niente ragazzi vi saluto con se voi avete capito qualcosa più di me per favore ditemelo da Jill e Luciconi è tutto alla prossima ciao ciao